Su un pianeta anonimo, un esperimento top secret, è fallito con conseguenze terribili. Tu sei l'ultima speranza dell'umanità, ma vuoi distruggere tutti gli scarafogli. Dire, fare, pronti a sparare! Allora, ascoltatemi bene perché non lo ripeterò. Qui paura è una parolaccia femminucce, ma se doveste farvela nei pannoloni almeno non ditelo in giro. Che le vostre mamme siano fiere di voi! Viva la mamma!